Una sentenza che non cambia di molto lo stato delle cose, semmai dimostra ancora una volta che è stata fallimentare la strategia delle proroghe per quel che riguarda le concessioni balneari. In realtà di fallimentare nella gestione ormai pluriennale della vicenda sulla direttiva Bolkisten c'è stato davvero tanto e le responsabilità vanno equamente divise tra gli europarlamentari italiani e i vari governi che si sono succeduti. Tutti non hanno compreso o hanno fatto finta di non comprendere che il centro della questione non erano tanto i presunti privilegi di cui godevano da anni i balneari, ma il modo con il quale l'Italia si stava preparando a svendere ai mega investitori europei un patrimonio ed un'eccellenza tutta nostrana, quella dell'impresa balneare. Ne è convinto già Luca Pesce, presidente del consorzio turistico di Francavilla al Mare. La storia è anche molto più semplice di come viene raccontata. C'è una direttiva dal nome Bolkestein, il creatore se non erro si chiama Fritz Bolkestein che più volte ha ribadito una direttiva di libero mercato come tante, come ce ne sono anche in Italia. Bolkestein più volte ha ribadito che si tratta di una direttiva relativa ai servizi, ovvero tutti quei servizi, diciamo parastatali, comunque tutti quei servizi degli stati all'interno dell'Europa devono permettere a libera concorrenza a tutti i privati, a tutte le imprese che vogliano partecipare, europee. Bolkestein ha più volte ribadito che si tratta di un bene e non di un servizio, di un bene dello Stato, di un bene italiano, però sembra che questa cosa non riesca a passare. L'Italia dunque, in particolare la classe dirigente tutta, da Bruxelles a Montecitorio, non è stata in grado di tutelare questa sua eccellenza. Tra i vari suggerimenti quello del deputato Luciano D'Alfonso, che auspica l'indizione di gare che tengano conto delle capacità e degli investimenti dei tanti operatori onesti. Ma basterà? Bisognerebbe, in maniera molto semplice, richiedere l'uscita dalla Bolkestein, che è qualcosa che ci verrebbe permesso immediatamente, ma ripeto, probabilmente qualcuno non vuole, perché è molto semplice, per tutelare l'Italia e gli italiani e per poi andare a decidere come andare a risolvere un problema permettendo il libero mercato, la libera concorrenza e permettendo che tutti gli italiani partecipino eventualmente ad un bando. Quindi lo Stato italiano non ha saputo tutelare questo bene? È ancora in tempo? Io penso che sia ancora in tempo e noi confidiamo comunque sulle amministrazioni locali, sugli enti territoriali per riuscire ad agevolare la presenza dell'Italia e degli italiani. Poi che qui sul territorio, che è comunque in tutta Italia, il gestore di stabilimenti balneari ha fatto un investimento e quell'investimento lo ha fatto sulla base di una prospettiva che andava ben oltre i 5-10 anni, quindi un valore attribuito a quel bene ben superiore e quindi oggi invece lì si dice di accomodarsi senza avere nulla in cambio. Questi sono secondo me altri aspetti di cui bisognerebbe discutere dopo.